La gestione del servizio relativo ai parcheggi a pagamento nel comune di Castellabate sarà affidato alla società in house Castellabate Servizi SRL per il quinquennio 2017-2021, a deciderlo l'ente comunale a seguito di un piano industriale valutato e ritenuto idoneo dal competente servizio. Ciò anche ragione del fatto che nel corso dell'anno 2017 la società in house ha dimostrato di svolgere in modo efficiente, efficace ed economico il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel rispetto del piano industriale approvato. È risaputo che il piccolo borgo di Benvenuti al Sud si caratterizza come una località turistica altamente attrattiva, determinando negli ultimi anni un'alta presenza di visitatori anche in mesi come aprile, maggio, settembre ed ottobre, dunque volontà dell'amministrazione comunale imprimere una spinta all'economia turistica territoriale attraverso i servizi di supporto all'utenza disponibile fin dai primi mesi primaverili ed anche oltre il normale periodo estivo. La variazione del periodo di vigenza riguarda la frazione d'Oiastro Marina, dal 30 marzo al 30 settembre, in particolare per piazza Papa Giovanni Paolo II, via Monsignor Pietropassaro, Nungo Pineta e via Cide dei Gasperi, la frazione San Marco, dal primo giugno al 30 settembre, per via Cilento, via Porto, Lato Mare e Pozzillo, piazza Luna Rossa. Variazioni che interesseranno anche la frazione Lago nel periodo compreso tra il primo giugno e il 30 settembre, per piazza Campo dei Rocchi, piazza Madre Teresa di Calcutta e piazza Belvedere dei Trezzeni. Tutto l'anno invece per la frazione Santa Maria, che comprende piazza Izzo, via Naso, piazza Matarazzo e villa Matarazzo. Dal 30 marzo al 30 settembre le variazioni interesseranno invece via Lungomare Pepi e dal primo giugno al 30 settembre via Lungomare di Simone, via dei Cantieri Navali e via Lungomare Bracale.